Un appello da parte dell'Associazione Nazionale Carabinieri Palermitana che esorta i cittadini a donare il sangue. Situazione critica, chiediamo un atto di amore da parte di tutti i palermitani. C'è in atto un'altra emergenza, quella della raccolta sangue per effetto della paura di covid-19. Nella prima settimana di marzo le donazioni sono calate in media del 10% in tutta Italia. Dopo i tanti appelli alla donazione dei giorni scorsi, l'afflusso dei donatori è tornato a crescere. Ora è importante mantenere questo trend per continuare a garantire le terapie degli altri ammalati. Da quando il coronavirus è arrivato in Italia, il numero dei donatori di sangue si è notevolmente ridotto. Le banche del sangue si trovano a fronteggiare una carenza senza precedenti. Ognuno faccia la sua parte. Anche nella nostra città di Palermo, spiega in una nota l'Associazione che annovera tanti volontari che si prodigano quotidianamente per il prossimo. Sente di raccogliere e rilanciare l'appello delle istituzioni a non fermare le donazioni, continua a spiegare. Vogliamo sensibilizzare tutti coloro in buona salute a recarsi presso un centro donazioni. 1.800 pazienti ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni e se non lo facciamo potranno ingolfare gli ospedali per le complicanze della loro anemia. Si è autorizzati, conclude, donare il sangue è tra gli spostamenti consentiti.